Ok, che ora voglio cantare in la centrale, in la prima, e ora voglio la parola di Diego. Ok, che ora voglio la parola di Derecho edificio, che è un edificio abbandonato, che è molto negocio di tutto tipo, peteria, di comida, arregla in gomma, e anche una che, e di Derecho, molti negociati qui, piccoli, sono di dominicano, qui hanno abito un negocio di diversi tipi, di migrante dominicano. E il nome è Maria Tilo Blanco, e il cordo e solto, in barbershop è un nome, e per che è un negocio più popolato, che è il famoso, non mi puoi, non pari, la famosa Martin Barbecue. Lo so, è un negocio qui è il Geo Fond Experts, cosa Cincinnati sta all Beige dominance E' un'ora per parte in parte, che spero poi consegui parte in cabecera. E' un polematico qui. E' un secaro d'amorso. Alla sta gente con trusione. E' qui me entra a ver la madre. E' qui è ma' temprano. edHAN E' un'ora per cui si era ovvero maggiore. andiam